Dopo dieci rialzi consecutivi, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale rimarranno rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4%. La BCE si attende che l'inflazione resti elevata per un periodo di tempo ancora lungo, ma al tempo stesso l'Indice dei Prezzi ha registrato una frenata a settembre. I passati aumenti dei tassi di interesse decisi dal Consiglio Direttivo frenano la domanda e contribuiscono così alla riduzione dell'inflazione. L'obiettivo è arrivare il prima possibile al 2%. La BCE ha ribadito che i tassi di interesse resteranno quindi fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché sarà necessario.